ma tranquillo aspetta gioca cambia come sei? Tino, Tino, Tino Daniele, il 3 è tuo Dani, fermo lì Dani 14 un bel allunga un bel allunga un bel allunga un bel allunga Pagano, pangano! Pagano! Dani, fermo lì! Dandè è tuo! Attacca! Fermo lì! Bravo! Un incontro facile! Non più! Ehi, ehi, ehi! Dani, fratteggi! Guarda Dani! Non più! Un bel scatto! Un bel scatto! Un bel scatto! No! Un bel scatto! Un bel scatto! È forse il calcio! e poi mi resta il braccio anche incastrato con questo freddo siamo soli la partina ci hanno fatto cioè soli stai giocando così si vuole un po' dietro l'uomo stai giocando per il gioco stai giocando per il gioco stai giocando per il gioco è stato più giocato sono più competente a centro a campo infatti se in campo stiamo giocando davanti al colpete il trompe al doppelete puoi giocare bravo Umbè bravo guarda a destra gettelo guarda a destra 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 venga è buono Umbè Umbè è buono Fai entrare a Pietro dai, ma tu sei fuori? No stiamo andando a metterci la maglietta, ci devi filmare e fotografia, perché almeno non devi filmare, sennò la dentro era bella Unicentro! Aspetta, Murru! Ho detto che c'era il vecchio allenatore in veste di allenatore Murru! No, ok basta, giusto perché deve sapere chi c'era il vanno, sennò no La spada, lasciamo l'anima Da un incontro però! Bravo, ci sto solo, 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 stai a Ube! Bravo! Dani! Vai, vai, tra tira! Bravissimo! Bravo! Dani, d'avanti! Dani, un po' fin dietro! Bravo! Dani, proteggi! ferma lì fai due volte unicontro unicontro dai largolo al volo al volo faccio il spettacolo fai due volte 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 fai due volte